Papà! Giacomino, posso fare il suo coso tempo con il suo coso in mano, sei? Sto guidando! Papà, te la posso fare una domanda? Che domanda devi, che vuoi? Perché quest'anno non fai la sfida con i tuoi colleghi, nei posti più belli che visitiamo in vacanza e fate la sfida? Perché quest'anno, l'ho detto pure in ufficio, è una cosa stupida mettersi a fare le foto in vacanza in centro, con tutto quello che succediamo. È un poco di... E perché non andiamo tutti quanti in Spagna? Perché la Spagna è pericolosa, Giacomino. E perché è pericolosa? Perché ci possono essere gli attentati, Giacomino. E perché non ho mai sentito gli attentati in Spagna? Perché gli attentati potrebbero essere ovunque, in qualsiasi posto esistente al mondo. E perché dalla zia in Molise in vacanza dove stiamo andando non ci sono? Perché il Molise non esiste, Giacomino. Hai mai sentito parlare un attentatore che sa dove è il Molise? Non lo sappiamo, mancano gli italiani. E perché non andiamo tutti quanti a Taormina? Perché a Taormina è pericoloso. E perché è pericoloso? Come perché è pericoloso? Perché ci sono i mafiosi, li possono mettere d'accordo con gli attentatori. E perché tutti i tuoi colleghi ci fanno? Perché i miei colleghi sono mafiosi, Giacomino. E allora perché non ci facciamo uno yacht bellissimo? Che è uno yacht, Giacomino, lo yacht è pericoloso. E perché è pericoloso? Perché nello yacht ci possono essere gli squali che saltano, l'acqua inquinata. E allora perché non ci facciamo la piscina così l'acqua è bella pulita, ce la facciamo a casa. Ma perché la piscina con l'acqua pulita ci possono essere le meduse. Ma perché ci sono le meduse dentro? Perché non abbiamo un cazzo di euro, Giacomino. E quest'anno i morti di fame come noi hanno la scusa degli attentati. E ora posso ciò cosa e stai zitto. Ma io non ho paura. 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 Cevito.